Sono contrarissima anche se capisco l'esasperazione ogni tanto delle persone che si trovano senza casa con un mare di patrimonio pubblico non utilizzato, molte case da mettere a posto perché pensano a città come Bologna che comunque stiamo bene, funziona tutto molto bene rispetto a altre città che però ha 300 appartamenti da mettere a posto su un patrimonio che non è che parliamo di un patrimonio di migliaia e migliaia di appartamenti e quando vai a vedere le graduatorie, l'ho tirato fuori due giorni fa, sono uscite le nuove graduatorie per le assegnazioni il 65% degli appartamenti alloggi che verranno assegnati quest'anno sono a stranieri e la cosa poi che rende tutto molto più impattante verso chi ci va dentro è che addirittura del restante quasi tutto vanno a nuovi cittadini italiani, per cui pochi italiani che sono il 17% nati in Italia che entrano dentro questi appartamenti trovano un intero edificio dove vedono solamente gente comunque fra virgolette straniera o nuovi italiani o stranieri stranieri per cui si alza lo scontro sociale, poi dicevamo prima con Esposito se non si vanno a cambiare i parametri dell'ISE, i parametri per accedere a tutti i servizi di welfare noi abbiamo un'intera fetta di popolazione italiana tenuta fuori perché sono criteri vecchi basati su una serie di parametri fra cui ad esempio quello del numero dei figli che vanno a, fra virgolette, premiare, far accedere molto prima a tutto questo sistema le persone straniere rispetto alle italiane questo crea un grande problema